Oggi ecco Chiara, oggi ecco Vuoi una mano? Sì L'ho preso io Cosa hai preso sai? Non lo prendiamo noi qua Va bene, va bene Lumos Lumos? Buona Formaggio Vuoi provare questo formaggio? Sì Vai Ce la fai o la prende mamma? La prende giù e la mette qua Ti servono quelli? No No, sei ancora piccola per quelli, vero? Eh sì Questi pannolini qua Cosa? Vedi? No, quello non mi serve amore, grazie Posalo nel suo posto Bravissimo Mi serve? No, non mi serve Ok Cosa suona? Tonne e fagioli Tonne e fagioli? Sì Tu vuoi tonne e fagioli? Sì Dove è? Ah sì Signora Oh oh, piccolo disastro Mi raccoglio male Vai, prendi le altre cose Gira di qua, aiutami, aiutami Vai, spingi forte Bravissima Terminale Ho oh 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 oh